Ciao, mi chiamo Aurora e faccio parte del blog di qualcuno con cui correre da ormai quattro anni e sono appassionata di storie fantastiche e il libro di cui vi parlerò oggi è Skellig che è stato scritto da David Almond e racconta la storia di Michael, un ragazzo che si trasferisce con la propria famiglia in una nuova casa. I genitori sono molto impegnati con le cure destinate alla sorella perché è nata prematura e a breve dovrà affrontare un rischioso intervento al cuore. Quindi Michael decide di esplorare la zona vicino alla casa nuova e si sofferma soprattutto sul garage che lo incuriosiva molto. Sì, vabbè, stavolta mi sono persa. E dentro al garage trova una creatura magica chiamata Skellig. Consiglio di leggere questo libro perché David Almond è un maestro a tenere il lettore sospeso sulla soglia che divide fantasia e realtà e solo alla fine si scoprirà chi realmente è il personaggio che sta dentro al garage.